A prima vista sembrano un trucco di scena, il guanto rosso di Iron Man e il braccio robotico di Star Wars. Ma non si tratta di effetti speciali per il cinema né di giocattoli tecnologici, sono protesi per bambini funzionali e altamente specializzate, create da un giovane ingegnere di Bristol che con la sua start-up potrebbe rivoluzionare il mondo degli arti artificiali. Abbiamo sviluppato mani artificiali per i bambini come per gli adulti e abbiamo lavorato con la Disney per realizzare un design ispirato ai gusti dei ragazzi e ai personaggi del cinema come Iron Man, Frozen e Star Wars. Lo scopo è aiutare i bambini a capire che la loro differenza non è un qualcosa di cui vergognarsi, ma di cui andare fieri. Joel Gibbard, fondatore di Open Bionics, ad appena 26 anni ha sviluppato una tecnologia in grado di creare mani bioniche a basso costo grazie a un procedimento produttivo che utilizzando la tecnologia degli scanner e delle stampanti in 3D abbatte il costo di un'arte artificiale di almeno 30 volte. Le protesi costano infatti appena 3.000 dollari e il progetto sviluppato da Open Bionics hanno la licenza open source di libero accesso per chiunque voglia svilupparla ed adattarla alle proprie esigenze. Usiamo gli scanner 3D per modellare la protesi attorno al braccio delle persone e le stampanti 3D per costruirle. Le dita della mano si muovono in maniera indipendente e così possono afferrare e lanciare oggetti e svolgere altri compiti come indicare e alzare il pollice. In pratica tutte le azioni quotidiane, da scrivere al computer a versare un bicchiere d'acqua. Nel mondo si stima ci siano quasi 9 milioni di amputati e il 5% di loro sono bambini. La maggior parte non ha protesi soprattutto perché costano troppo, specie nei paesi in via di sviluppo. Il progetto di Open Bionics può rappresentare il futuro. Il nostro è un lavoro da pionieri. Le tecnologie 3D che utilizziamo e i meccanismi di controllo elettronico saranno sempre più comuni e diffusi nel mondo delle protesi e delle biotecnologie. Sono destinate a evolversi e a migliorare in funzionalità man mano che passerà il tempo. e ci siamo diventati più avanzati e più funzionali quando il tempo si tratta.